come quella di una partita di calcio fra il Barcellona, il Barça e il Bastia che allora aveva un valore sportivo molto importante perché aveva battuto in finale la Coppa UEFA il turino di Bazziani e questo è un fatto molto importante che ha avuto una ricaduta perché poi si sono intensificati i rapporti commerciali, economici, per due anni abbiamo avuto la linea già nell'80, 81, 82, il volo albero a Barcellona e questi sono fatti importanti che sono stati poi ripresi con la RENER nei ultimi 15 anni e speriamo ora si possano di nuovo recuperare. Allo stesso tempo sono state avviate anche iniziative che sono partite dal mondo della Chiesa da persone molto importanti e significative della cultura algherese, da dottor San, al professor Peana, a don Tonino Lugues che hanno aperto una strada importante sia sulla formazione e sull'insegnamento della lingua catalana ma soprattutto per la conservazione del patrimonio ecclesiastico e linguistico anche attraverso la celebrazione della Santa Messa della chiesa di San Francesco e questo è un fatto importante che ha dato una svolta proprio alla presenza e non solo di lingua catalana ma proprio alla presenza della Catalonia nella nostra città.